Assisteremo a una commedia, come la vuoi chiamare? Come la vuoi definire? Trage... Assurda, una storia assurda dai Quindi introduco una storia assurda Vissuta a Torino, specifico Torino Se ogni opera ha un riflesso di te, come ti vedo dentro questa? Se ogni opera ha un riflesso di te, come ti vedo dentro questa? Come ti vedo dentro questa? È spaccata, distante e superficiale Bugiarda È spaccata, distante e superficiale, bugiarda Bugiarda Ma cosa cerchi? Ma cosa cerchi?